Ben trovati con il nostro Advisory Update, con i nostri approfondimenti. Di cosa parliamo oggi? Concentriamoci sulla parola investimento. Accanto alla parola investimento ho anche la parola opportunità, quell'opportunità di investimento che in particolari contesti di mercato possono darci delle possibilità magari più strategiche, più efficienti e anche più snelle. Allora cerchiamo di capire a cosa possiamo guardare, sicuramente una piazza da monitorare è quella di Malta. Ne parliamo oggi con Rebecca Schuireb, Business Development Manager di BOV Fanservices. Rebecca, ben trovata. Ciao Manuela. Ben trovata Rebecca. Allora, io mi collegherei proprio alla premessa che ho fatto poco fa. Io prendo sempre delle parole chiave che possono aiutare a entrare negli argomenti. Investimento e opportunità. Allora, in generale partirei da questo. I gestori internazionali vedono in Malta una delle piazze interessanti proprio per indirizzare la loro attenzione e per formare degli schemi di investimento. E quindi mi verrebbe subito da chiederti quali sono i fattori che hanno reso proprio la giurisdizione maltese una scelta alternativa rispetto ad altre piazze che magari sono conosciute maggiormente a livello internazionale. Prima di evidenziare i concreti vantaggi che offre Malta come giurisdizione e domicilio per i fondi, secondo me è importante ribadire con un po' di chiarezza il profilo giuridico del Paese. perché purtroppo è ancora un misconception, una misinterpretazione da alcuni operatori sullo status attuale di Malta. Infatti Malta è stata e appartiene all'Europa dal 2004 ed è stata anche iscritta nella white list per i paesi di fiscalità trasparente dal 2010, quindi qua stiamo parlando di più di dieci anni e più di quindici anni in più rispettivamente. Negli ultimi venticinque anni infatti Malta ha attraversato un percorso sistematico e ben programmato per riqualificarsi rispetto a come si presentava una volta, però oggi non più, perché oggi si presenta come centro internazionale forte e robusto per i servizi finanziari e questo è stato possibile grazie principalmente al nostro singolo regalatore finanziario, il Malta Financial Services Authority, l'MFSA. Adesso tornando alla domanda che mi hai fatto Manuela, proprio in quali sono i fattori che hanno reso Malta una scelta alternativa rispetto ad altre piazze forse più conosciuti nell'industria di fondi, come hai detto queste sono varie. Malta non ha un singolo fattore, un USP, un unique selling point, ma ci sono alcuni fattori che hanno reso la giurisdizione ideale specificamente per i fondi e i gestori di dimensione piccola e media. Stiamo parlando di fattori come costi competitivi, come snellezze procedurali, l'approccio pro business del regalatore, dell'MFSA. A Malta è possibile anche fissare un appuntamento, un meeting presso l'MFSA. Ad esempio quando abbiamo un cliente che vuole costruire un fondo che magari ha una strategia un po' diversa dalle strategie più tradizionali, che è una cosa importante in questa industria di offrire qualcosa un po' diversa da quello che c'è già disponibile sul mercato. Noi organizziamo un meeting presso l'MFSA, presso il regolatore, dove discutiamo il progetto insieme, troviamo la soluzione più ideale, il percorso migliore per fare che questo progetto diventi una realtà. Poi possiamo menzionare anche il normativo solido, ma allo stesso tempo flessibile di rule books e di veicoli per fondi che sono disponibili, alcuni esclusivamente a Malta. Altri fattori poi includono la forza lavorativa ben qualificata, il fatto che l'inglese è una lingua ufficiale a Malta, tutto il business viene fatto in inglese, ma anche che l'italiano è parlato correntemente. Niente anche mentre ci parli tu Rebecca, quindi assolutamente sì, questa è sicuramente però, ora io ci ho scherzato sopra, però è sicuramente una delle motivazioni per cui anche Malta è al centro dell'attenzione. Peraltro tu hai citato più volte la parola snellezza, velocità, che anch'io nella premessa mi sono sentita proprio di sottolineare, perché chiaramente non c'è, quando una cosa è buona è perché è anche veloce, altrimenti si devono perdere dei passaggi o comunque magari si deve rinunciare perché ci sono troppi passaggi, il risultato è presto detto, è presto fatto, insomma. Quindi assolutamente i primi punti sono questi. Cerchiamo di fare un passo ulteriore Rebecca, se sei d'accordo, e cerchiamo di capire come Malta, oltre ai motivi che tu ci hai già portato, ha saputo attrarre proprio verso di sé gli operatori della FAN Industria Europea e Internazionale, perché chiaramente allarghiamo gli orizzonti. E quali sono i prodotti più esclusivi a questo punto della giurisdizione che tu poco fa citavi? Sì, certo. Allora noi abbiamo già menzionato il fatto che Malta appartiene all'Unione Europea e da parecchi anni, quindi qua non parlerò dei prodotti che sono disponibili in tutta Europa, come i USIT o gli Alternative Investment Fund, i AIF, perché questo è un level playing field per tutti i paesi nell'Unione. Però detto questo e nonostante questo level playing field, ci sono alcuni prodotti offerti esclusivamente da Malta, come ho detto prima. E questi prodotti ci continuano a darci il nostro competitive edge rispetto ad altre giurisdizioni. Prima di andare in più dettaglio su questi prodotti, vorrei dire che la nicchia di Malta è stata costruita all'interno, allo spazio piccolo o medio, quindi Malta è significativamente più attraente per i gestori di questa dimensione che magari potrebbero incontrare alcune difficoltà nell'approccio di altre giurisdizioni più grandi come Lussemburga, ad esempio. Vorrei anche chiarificare che il fatto che ho menzionato prima che a Malta si offrono costi competitivi non significa che Malta è un domicilio low cost, perché viene mantenuta una qualità di servizio eccellente e questo è grazie anche al dialogo che c'è tra gli operatori, tra i service providers, anche con il regolatore e altre associazioni dell'industria a Malta. Allora, i prodotti offerti esclusivamente da Malta, quelli che menzionavo prima, sono in due che vorrei menzionare oggi, sono il Professional Investor Fund o il PIF e anche c'è il Notified Alternative Investment Fund, i NEIF. Comincio con il PIF. Allora, Professional Investor Fund, PIF, sono fondi di investimento alternative, sono disponibili ai gestori alternativi de minimis, quindi Alternative Investment Fund Managers che sono sotto soglia delle 100 milioni di euro e quindi non sono costretti questi ad aderire alla direttiva europea dell'EIFMD, il Alternative Investment Fund Managers Directed. Il PIF è un prodotto quindi molto più flessibile che può ospitare tutte le strategie di investimento alternative e poi non ci sono nessuna restrizione di investimento, nessuna restrizione di leva, non c'è anche un requisito di diversificazione del portafoglio, nessuna necessità anche di banca depositaria perché qua sono sufficienti gli accordi di safekeeping e dipende dalla tipologia degli assets. Di solito spesso è nominato un Prime Broker per il safekeeping degli assets e l'execution of trades. Per quanto riguarda poi la gestione del PIF, questi fondi sono strutturabili o in un format eterogestito dove è nominato una società di gestione regolata per fare la gestione del fondo essenzialmente. Oppure è anche possibile strutturare il PIF nel format autogestito, self-managed funds. Qua stiamo parlando di un SICAF perché siccome anche se è possibile strutturare un fondo in diversi formi legali a Malta, la forma legale più comune, più popolare è il SICAF. Quindi sto parlando qua del SICAF. Allora, nel format di un PIF autogestito quello che succede è che il corpo d'amministrazione, CDA, Board of Directors, nomina un investment committee all'interno del fondo che avrà tre membri al minimo, come minimo, e questi tre membri saranno collettivamente come investment committee, comitato di investimento, responsabili per la gestione del fondo. Un'altra cosa da menzionare qua è che il PIF non possono però approfittare del passaporto europeo, quindi non può essere promosso attivamente nell'Europa, ma la raccolta viene fatta tramite private placement. Se invece un operatore vuole avere il passaporto europeo perché è importante che sia possibile promuovere il prodotto attivamente, il fondo qua, dobbiamo parlare di un'altra tipologia che è il Notified AF, che è il secondo tipologia di fondo offerto esclusivamente da Malta. Il Notified AF è un prodotto un po' più ricente rispetto al PIF, perché il PIF stiamo parlando di un prodotto che è stato introdotto nell'anno 2000 e che infatti è stato questo prodotto che ha aperto le porte per l'internazionalizzazione dell'industria dei fondi a Malta. Ma il NEIF invece è stato introdotto nel 2016 ed è una soluzione fast track per costruire un alternative investment fund. Qua quindi il NEIF è un prodotto del manager, del gestore AFM che deve aderire alla direttiva EIFMD. Qua è molto semplice, è molto veloce. No, 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 stavo semplicemente dicendo che peraltro oltre alla velocità c'è la possibilità di diversificare, di personalizzare se vogliamo anche indirizzare i nostri investimenti. Ecco, sì, sono cose magari che sai sembrano banali ma è importante sottolineare perché poi ciascuno farà, voglio dire, un piano a seconda proprio delle esigenze e degli obiettivi che ha. Scusami, ti ho interrotto ma proseguiamo su questo perché... Certo, ma le tipologie di investimento, le strategie sono diverse che puoi fare sia col PIF che copre tutte le strategie di investimento e anche con il NEIF che copre la maggior parte delle strategie alternative di investimento incluso real estate, private equity eccetera. Quindi è molto aperta, si può diversificare come hai detto, hai detto bene tu. Stavo dicendo che la procedura è molto semplice e molto veloce perché si può costruire in un massimo di dieci giorni. Dalla notifica dal parte dell'AFEM, del gestore AFEM all'MF6, se ovviamente è un pacchetto completo di notifica, poi l'MF6 includerà in un massimo di dieci giorni, questo NEIF nella lista di Notified AFEM, essenzialmente il fondo poi può lanciare, può cominciare. Ma il NEIF per sé come un prodotto non è un prodotto regolato perché il NEIF è un prodotto, abbiamo detto, dell'AFEM che questo AFEM è già regolato dalla direttiva AIFMD. Quindi l'MF6 qua fa affidamento sull'AFEM perché è autorizzata e regolata e quindi il prodotto non deve esserlo. Ma per questo poi il NEIF non può essere autogestito ma poi gode dei benefici del passaporto europeo per promozione attiva nell'UE. Quindi mentre il TIF è la soluzione forse più ideale per i gestori più piccoli che hanno bisogno di più flessibilità, che gestiscono meno di 100 milioni e quindi vogliono più flessibilità e più costi competitivi che è importante specialmente nella fase iniziale di un fondo che è ancora piccolo. Il NEIF poi è il veicolo ideale per i gestori AFEM che vogliono strutturare in fondo in breve tempo. Magari hanno già degli investitori già pronti a mettere i soldi o una strategia che è time sensitive ad esempio. Certo. E poi è anche interessante il discorso, più volte è tornata ancora la parola velocità, io insisto su questo perché è collegato direttamente anche al tema dei prezzi competitivi di cui si parla, non bisogna lasciarsi ingannare dal discorso generale del low cost, semplicemente insomma Rebecca mi viene da dire che esatto, tu prima l'hai detto assolutamente bene ma ci tengo a riprendere questo concetto, spesso si abbattono i costi proprio perché le procedure sono più veloci, sembra anche qui una banalità ma è l'efficienza di cui parlavamo in apertura e quindi comunque ancora di più i costi possono essere appunto competitivi. Se io ti aggiungo anche un altro tassello che però si ricollega a quello che già tu ci raccontavi perché chiaramente tra i players primari del settore fondi a Malta c'è la BOV Fan Services, mi piacerebbe capire come la vostra società è stata in grado di internazionalizzare le competenze e quindi continuare sul tema dei servizi che vengono offerti ai gestori che scelgono Malta per domiciliare i loro schemi di investimento dove ancora il domicilio non deve essere inteso come low cost ma struttura, cioè piano strutturato, piano più consolidato e mirato. Sì, l'internazionalizzazione dell'industria dei fondi maltesi è stata possibile con l'introduzione di veicoli e di tipologie di fondi più innovativi che non erano possibili, non erano disponibili in altri paesi, come il PIF che ho mentionato e che infatti questo è stato ciò che ha fatto possibile l'internazionalizzazione dell'industria. Poi noi essendo pionieri e leader nel settore, il BOV Fan Services ha naturalmente anche cominciato ad offrire i servizi a clienti su una base internazionale. Poi abbiamo infatti anche per alcuni indici di rappresentanza, abbiamo una a Londra, un altro a Milano, infatti forse più importante in questa conversazione. Per spiegare un po', il BOV Fan Services è una società interamente controllata, è una consociata del gruppo bancario Banco Valletta, il Banco Valletta Group, che questo è il gruppo bancario più grande, il gruppo bancario principale a Malta. Noi i BOV Fan Services siamo un amministratore dei fondi, quindi offriamo i nostri servizi come il calcolo NAV, manteniamo il registro degli azionisti, contabilità, prepariamo i financial statements dei fondi. Offriamo servizi anche di segreteria, company secretary registered office services, reportistica e tutto il back office che può necessitare un fondo. Quindi è un pacchetto completo di servizi di amministrazione. Ma prima di offrire questi servizi di amministrazione, noi offriamo anche un pacchetto chiave in mano a gestori e promotori che vogliono strutturare un fondo o ridomiciliare un fondo o anche strutturare una società di gestione a Malta. Offriamo tutti questi servizi a promotori e a gestori presenti in tutta l'Europa, ma primariamente direi che l'Italia, la Svizzera, l'UK, la Repubblica Cieca e naturalmente anche Malta che sono i nostri mercati più importanti. Sì, noi come BOV Fan Services siamo recognized come amministratori dal Multifinancial Services Authority e siamo anche autorizzati da questa stessa MFSA come Company Service Providers. Per ulteriori informazioni sui BIF, sui NAIF o su altre tipologie di investimento, veicoli di investimento anche sulla strutturazione di un fondo o di una società di gestione, noi possiamo essere contattati per email su info.bovfs.com o anche per telefono su 00356 2275 3682. Saremo molto molto contenti di discutere e dare ulteriori informazioni dove dovete. Infatti abbiamo visto in sovrimpressione l'indirizzo mail, poi il rimando è sempre al sito, Rebecca, perché dove si possono leggere le informazioni principali e poi dove trovare i contatti. I nostri telespettatori lo sanno che è bello e ci piace dare dei consigli di investimento e poi ciascuno, come detto anche nel corso di questa intervista e di questa chiacchierata, si regolerà sulla base delle esigenze, degli obiettivi, del piano insomma che si può fare. Però insomma chiedere è sempre doveroso, no, Rebecca, e per sapere anche con chi relazionarsi quando bisogna conoscere mondi che magari non sono conosciuti come altri, perché siamo partiti proprio da qui. È importante anche perché come detto prima è un settore più nicchia e quindi le strategie, le tipologie tutti hanno negli suoi progetti, è importante avere una discussione per vedere come, cosa sarà il percorso migliore di seguire. Certo, certo, assolutamente. Grazie Rebecca Sciuirebbe, grazie per tutti questi consigli e queste nozioni per chi non le avesse già in mente. A presto, ancora sulle fonti tv, grazie mille. Grazie, ciao. Grazie, noi chiudiamo questo approfondimento, grazie per averci seguiti e ancora ci vediamo sulle fonti tv. Grazie a tutti.